Allora io sarò brevissimo ma spiegherò ai cittadini quello che sta succedendo nei confronti non soltanto dell'amministrazione comunale ma soprattutto nei confronti dei cittadini di Mazzara del Vallo. A mio avviso questo è un atto vile e terroristico nei confronti dei cittadini di Mazzara del Vallo. Noi abbiamo attivato tutti i nostri poteri, tutti quelli che ci consente la legge, tutti quelli che ci consente lo Stato. Nessuna risposta da parte dello Stato e della Regione ci è stata data, nessuna risposta nonostante noi, almeno io personalmente, ho incontrato su eccellenza il Prefetto, ci siamo messi in contatto con la Regione, ci siamo messi in contatto con il Dottor Armenio che è responsabile dei rifiuti della Regione Sicilia. Naturalmente tutto questo è un danno non soltanto di immagine nei confronti della città di Mazzara del Vallo ma soprattutto è un danno agli operatori ecologici di Mazzara del Vallo. Sappiano che il Comune di Mazzara del Vallo è impossibilitato nel pagare, non è che non vuole pagare, non può pagare perché i debiti sono inferiori alle somme pignorate. Ma questa è la legge purtroppo, è la legge. Abbiamo oltretutto una grave situazione igienico-sanitaria con potenziale rischio di epidemie. Io ho ricevuto adesso, cinque minuti fa, un'altra nota dell'ufficiale sanitario che ci intima e ci ordina di agire nell'immediatezza. Abbiamo un problema di ordine pubblico, abbiamo, ripeto, un problema igienico-sanitario. Il tutto con il silenzio totale dello Stato. Ecco, come si spiega proprio questo silenzio da parte delle autorità preposte in questo caso di intervenire? In questo caso poi saranno gli organi competenti a farlo spiegare. Certo non saremo noi. Noi stiamo attivando tutte le procedure possibili e immaginabili, stiamo informando il Ministero dell'Interno, stiamo informando il Ministro della Sanità, abbiamo informato l'Assessore della Sanità, abbiamo informato il Presidente della Regione. Naturalmente poi ci saranno i giudici competenti, i giudici che potranno stabilire a torto o a ragione di chi sono le responsabilità. C'è da rilevare poi il fatto che non soltanto viene vietata la raccolta sul territorio di Mazzara da parte degli operatori dell'Abelice Ambiente, ma cosa forse ancora più grave è il bloccare il conferimento dei rifiuti del Comune di Mazzara presso la discarica di Campobello. Questo problema è gravissimo, io l'ho sottolineato a Sua Eccellenza il Prefetto, l'abbiamo anche sottolineato dal Presidente della Regione. Abbiamo anche richiesto di poter conferire in altre discariche, ma non abbiamo nessuna risposta, non riesco a comprendere le motivazioni di questo comportamento. Di questo noi non riusciamo a comprendere. Comunque ci saranno gli organi competenti, il Ministero dell'Interno e tutti i ministeri competenti per quanto riguarda questa problematica, che dovranno sicuramente dare una risposta plausibile e dire di chi sono le responsabilità, non certo del Comune di Mazzara del Vallo. Devo altresedire che durante l'Assemblea che si è tenuta martedì scorso presso Belice Ambiente, io ho cercato, chiamiamola mediazione, la possiamo chiamare anche così, ho detto che siccome erano state rigettate quattro fatture da parte delle Comune nei confronti di Belice Ambiente, di rivedere queste fatture e se, con i tempi dovuti naturalmente, se queste fatture avessero consentito di far aumentare il debito rispetto alle somme più ignorate, il Comune di Mazzara del Vallo era disponibile a liquidare le somme disponibili per poter così pagare gli operai e gli operatori ecologici. Non c'è stato dato il tempo di farlo, naturalmente per fare questi conteggi, sia i nostri uffici che gli uffici di Belice Ambiente, hanno bisogno dei tempi opportuni. Non è possibile dire mandate un email con un impegno di 500 mila euro e noi riapriamo la discarica, ma se noi non abbiamo fatto i conteggi come possiamo prendere un impegno di 500 mila euro? Noi qui siamo alla follia, per non aggiungere altri termini, alla follia totale. Si fanno i conteggi, si vede se effettivamente il Comune di Mazzara del Vallo ha aumentato i debiti rispetto alle somme più ignorate e allora è possibile liquidare somme che consentiranno agli operai ecologici di avere il loro stipendio o una parte di stipendio. Ma questo io l'ho detto non soltanto alla presenza del Commissario Alfano, ma anche alla presenza di alcuni sindacati che erano presenti durante l'Assemblea dei Soci del 22 settembre. Qual è la promessa che si può fare ai cittadini a livello di intervento, ovviamente per quella che è la parte dell'amministrazione comunale? Noi stiamo attivando tutte le procedure possibili e immaginabili. Che promessa possiamo fare? Possiamo anche attivare l'esercito a questo punto. Se non ci danno risposte, se non ci danno la possibilità di conferire rifiuti in discarica, io non dico Campobello, ma anche un'altra discarica, questa è Siculiana, Catania o d'altre, se la Regione non ci dà questa opportunità, ma noi come possiamo togliere i rifiuti in mezzo alla strada? Devo dire altresì, come mai altri comuni che fanno parte del Belice Ambiente ATP2 hanno debiti nei confronti del lato Belice di 700-800 mila euro e non vengono richiamati all'attenzione del commissario Alfano. Come mai? Io questo vorrei anche spiegare. Per esempio c'è il Comune di Petrosino che deve dare 700 mila euro, c'è il Comune di Salemi 800 mila euro. Il tipo di comportamento, a prescindere dalle diatribie personali che ci possono essere tra due persone, qui c'è una città che è invasa dai rifiuti e che rischia di essere infetta da epidemie, come ci suggerisce e ci intima l'ufficiale sanitario.